Oggi, guardando presso alla croce a questa donna firmissima nel seguire suo figlio, nella sofferenza, per imparare l'obbedienza, guardandola guardiamo la Chiesa e guardiamo nostra madre e anche guardiamo la nostra piccola anima che non si perderà mai se continua a essere anche una donna vicina a questo. Queste due grandi donne che ci accompagnano nella vita, Maria e la Chiesa. E come nel Paradiso sono usciti i nostri padri con una promessa, oggi noi possiamo andare avanti con una speranza. La speranza che ci dà la nostra madre Maria, firmissima presso la croce, è la nostra santa madre Chiesa ierarchica.